Se afferri ciò che dico in questo video, fai parte di un'elite di liberi pensatori. Non solo, sei anche un costruttore, l'architetto della tua vita, perché avrai compreso che in interiore homini sabitat veritas, diceva Sant'Agostino, la verità è dentro l'uomo e avrai scoperto la vera natura dell'io, dal sacro al profano. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di suonare la campanella se vuoi essere avvisato dei prossimi video e condividi con i tuoi amici questo video se ti è piaciuto. Ormai lo sappiamo bene. Ce lo dice la scienza. Non esiste nulla di ciò che chiamiamo realtà materiale fuori di noi che non sia una proiezione soggettiva personale. È, se vogliamo, tutta un'illusione, anche se poi la consideriamo un'esperienza. Come esseri umani siamo coscienza e come tale siamo indistruttibili, eterni. Sembra un controsenso, ma da quando ci affacciamo in questo stato dell'essere, in questo mondo, cadiamo preda della manipolazione, del condizionamento fino all'uscita di scena. Da quando nasci fino a quando muori, il sistema ti scarica una serie di informazioni che diventano il tuo programma mentale. E dentro i 35 anni di età si definisce il 95% della tua personalità, ovvero quell'insieme di comportamenti, percezioni, credenze, atteggiamenti, reazioni emotive ormai memorizzato dentro di te, che funziona a livello subconscio come il programma di un computer. La maggior parte di noi nemmeno si rende conto che poi, accettato il programma educativo di percezione e comportamento, viene messa alla prova per vedere il grado di accettazione di quel livello di realtà, con una serie di eventi, tipo pandemie, emergenze climatiche, guerre, con il martellamento dei media che ti configurano la medesima visione della realtà, allo stesso modo della medicina mainstream e della scienza mainstream. Qualcuno, di fronte a questi inviti perentori di omologazione dei comportamenti e dei pensieri, comincia a rendersi conto che il sistema non vuole che si comprenda la vera natura dell'io, perché una volta compreso che l'io non è il corpo, i pensieri, le emozioni, si scopre la consapevolezza del sé. A questo punto sei libero di scegliere, essere un numero e accettare di esserlo, oppure renderti consapevole che il sistema vuole che l'io di ciascuno di noi si identifichi con il nome, la propria razza, la propria sessualità. Sono etichette, dice David Icke, e le etichette con le quali le persone identificano se stesse non rappresentano ciò che realmente sono, ma solo ciò che stanno sperimentando. E chi sta sperimentando quelle vite, quelle etichette, è la vera conoscenza dell'io. Quando finisci per identificarti con le tue etichette, anziché vederle per quello che sono, ossia una tua esperienza personale, finisci anche per perdere di vista chi sei davvero. Quando però ti identifichi con la coscienza che sta vivendo l'esperienza, la coscienza che si sta muovendo verso ciò che chiamiamo morte, la porta verso altre dimensioni, allora il tuo senso di sé, il tuo senso di potere, il tuo senso di potenziale esplode, continua Icke. E in questo modo la vita diventa un'avventura, e ti rilassi, perché sai che è solo un'esperienza temporanea sulla strada dell'eternità. Immagina il wifi e un computer. C'è un campo wifi che rappresenta una serie di informazioni in un campo di radiazioni. Il computer decodifica le informazioni in quel campo e a seconda dove lo porta il mouse si proietta in questa parte o da quell'altra parte del campo o da quell'altra ancora e a seconda di cosa proietta lo decodifica sullo schermo, ma solamente sullo schermo. Questo è l'unico posto in cui internet esiste in quella forma. In qualsiasi altro punto esiste solo il wifi, cioè un campo di radiazione. Il corpo umano ha lo stesso principio. Abbiamo quello che Icke chiama wifi cosmico, che ovviamente riconosciamo come il campo quantistico di possibilità e probabilità. Questo è un computer biologico e questo campo wifi sono informazioni in forma di onde. Sai come funzionano i cinque sensi? I canali percettivi prendono informazioni sulla forma d'onda, la trasformano in informazione elettrica, la trasmettono al cervello che le interpreta in informazioni digitale e olografiche. E cos'è questa informazione digitale e olografica? È il mondo che sperimentiamo fuori di noi, ma non è fuori, è dentro. Proprio come internet è all'interno del computer, ma noi lo osserviamo soltanto sullo schermo del monitor. Ciò che fai quando sei su un computer è prendere decisioni attraverso le tue percezioni di dove vuoi andare su internet. Quindi i tuoi movimenti sono dettati da ciò che vedi sul teleschermo. La tua percezione funziona esattamente allo stesso modo. Tutto ciò che pensiamo, ogni pensiero, ogni stato emotivo viene trasmesso come frequenza. Tutto è frequenza. L'odio ha una certa frequenza. L'amore è una frequenza molto diversa. La depressione è una frequenza. Le persone, quando sono in stato di depressione e ansia, che cosa dicono? Oggi mi sento così pesante. Come mai? Perché quelle frequenze sono molto basse e lente e il loro campo energetico inizia a vibrare molto lentamente ed entra in uno stato molto più denso e lo sentiamo come una sensazione pesante. Poi un giorno ci svegliamo e siamo pieni di gioia. E cosa dice la gente? Oh, come mi sento leggero oggi. Sì, perché le emozioni positive e i pensieri d'amore, di gioia, sono tutte frequenze molto veloci. Quindi ti senti leggero, come se avessi il peso di una piuma. Di conseguenza, le nostre sensazioni, sia che crediamo di essere un piccolo sé o un sé infinito, sono bande di frequenza molto diverse. Per cui, se sei nella percezione del sono un piccolo me, non ho alcun potere, stai trasmettendo e operando su una banda di frequenza molto bassa. E questo sta interagendo con il wifi cosmico. Sei dentro il campo quantistico di possibilità e probabilità all'interno di quella banda. E in questo modo creerai un ciclo di feedback in cui sperimenterai le tue percezioni. La percezione del piccolo me diventa una vita in cui sei piccolo. Quando ti identifichi con quelle etichette limitanti, stai cercando una profezia autoavverante attraverso questo ciclo di feedback dove le tue percezioni interagiscono con le possibilità e creano un esperienza delle tue percezioni. Ma quando esci e ti autoidentifichi come l'io, come la coscienza che sta vivendo l'esperienza, ecco, solo il fatto che tu hai ampliato la tua identità personale, allora quella stessa espansione dell'identità del sé crea un'espansione della coscienza. E ora sta interagendo con il campo quantistico di possibilità e probabilità con il wifi cosmico, in un modo molto più estensivo e su una frequenza molto più alta. Ciò significa, conclude Ike, che sei in grado di attingere a una scala di possibilità e probabilità molto più ampia e la tua vita inizia a cambiare. Questo non vuol dire stare a gambe incrociate su una montagna. Devi soltanto dire, io non sono le mie etichette, io sono la coscienza che le sta sperimentando. Pensa allora che le sta sperimentando l'infinita consapevolezza. Sono le mie esperienze, ma non sono io. E succede qualcosa di grande e inaspettato, perché la tua vita diventa di punto in bianco un'avventura e cominciano ad accaderti cose incredibili. Allora davvero ti rendi conto che stiamo traendo le nostre esperienze dall'intercosmico attraverso le nostre percezioni e ci renderemo conto che invece di dover lottare per conquistarcele, basta solo attirarle. Grazie a tutti.